la seconda fase è così mi devo agire questa cosa porca porca che è successo così ah perchè per il copyright madonna che goofy outfit si è perso dove sono che c'è qua sopra c'è un goofy agargoid aspetta mi è caduto in base dov'è? che cazzo fai? cadeli indietro cadeli indietro cadeli indietro dimitri palleli vediamo guardate portare